Capitolo 70 Del Piano di Bangu Quando l'uomo si parte dei Karakoron e dei Alcai, ovvero luogo dove si sotterrano i corpi degli tartari, sì come aveva contato di sopra, l'uomo va e più inanzi per una contrada verso Tramontana, la quale si chiama lo Piano di Bangu, e dura bene quaranta giornate. La gente sono chiamate Mecricci, e sono salvatica gente. Egli vivono di bestie e il più di cerbi, e sono al grande cani, egli non hanno biade né vino, l'estate hanno cacciagioni e uccellagioni assai, di verno non vi stai né bestie né uccelli per lo grande freddo. E quando l'uomo è di capo delle quaranta giornate, l'uomo trova lo mare aziano, e quive ai montagne ove li falconi pellegrini fanno loro nidio, né no va se no una generazione d'uccelli, de che essi pascono quegli falconi, e son grandi come pernice, e chiamansi bugherlac. Egli hanno fatto li piedi come papagallo, la coda come rondene, e molto sono volanti. E quando or grande cane vuole di quegli falconi, manda a quella montagna. E nell'isola di quello mare nasce gli gerfalchi. E sì vi dico che questo luogo è tanto verso la tramontana, che la tramontana rimane adrieto verso mezzodie. E di quegli gerfalchi va tanti che il grande cane na tanti come egli vuole. E quegli che porta questi gerfalchi agli tartari li portino al grande cane e agli signori del levante, cioè ad Argo ed agli altri. Or vabbiano contato tutti gli fatti delle province della tramontana fino al mare ozeano. Oggi o mai vi conteremo d'altre province, e ritorneremo al grande cane, e ritorneremo a una provincia che noi abbiamo iscritta in nostro libro, Canome Campi Tui. Capitolo 71 Del Reame d'Erguil E quando l'uomo si parte di questo Campi Tui che io v'ho contato, l'uomo va e cinque giornate per luogo ove è molti spiriti, li quali l'uomo gli ode parlare per l'aria la notte più volte. A capo di queste cinque giornate, l'uomo trova un reame Canome Erguil, e è al grande cane, e è della grande provincia di Tengut che ha i più reami. Le genti sono idoli e cristiani nestorini e quegli che adorano Malcomet. E va ai città di Assai e la mastra cittade a nome Ergigul. E uscendo di questa città, andando verso Catai, si trova una città che ha nome Singui, e ha viville e castelle assai, e sono di Tengut medesimo, e è al grande cane. Le genti sono idoli e che adorano Malcomet e cristiani. E va a buoi salvatichi che sono grandi come leofanti, e sono molto begli a vedere che egli sono tutti pilosi fuorlo d'osso, e sono bianchi e neri, lo pelo lungo tre palmi, e sono sì begli che è una meraviglia. Ed e questi buoi medesimi hanno dei dimestichi, perché hanno presi dei salvatichi e hanno gli fatta lignare dimestichi. Egli gli caricano e lavorano con essi, e hanno forza due cotanto che gli altri. E in questa contrada nasce lo migliore moscado che sia a mondo. Sappiate che il moscado si trova in questa maniera, che l'è una picciola bestia come una gatta, ma è così fatta. Ella ha il pelo da cervio, così grosso lo piede come gatta, e ha i quattro denti, due di sotto e due di sopra, che sono lunghi tre dita e sono sottile, li due vanno in giuso e le due in suso. Ella è bella bestia. Lo moscado si trova in questa maniera, che quando l'uomo la è presa, l'uomo trova tra la pelle e la carne, dal bellico, una postema, e quella si taglia con tutto il cuoio, e quello è lo moscado, di che viene grande olore, e in questa contrada nae grande abbondanza, così buono com'io vo detto. Egli vivono di mercatantia ed arti, e hanno biade. La provincia è grande quindici giornate, e va a fagiani due cotanto grandi che nostri. Egli sono grandi come paoni, un poco meno. Egli hanno la coda lunga dieci palmi, e nove, e otto, e sette almeno. Ancora va a fagiani fatti come quelli di questo paese. Le gente sono idole e grasse, e hanno piccolo naso, li capelli neri. Non hanno barba, se no al mento. Le donne non hanno pelo ad osso in nieno luogo, salvo che nel capo. Elle hanno molto bella carne e bianca, e sono bene fatte di loro fattezze, e molto si dilettano con uomini. E può assipigliare tante femmine come altri vuole, abbiento il podere. E se la femmina è bella, e è di piccolo legnaggio, uno grande uomo la toglie e dai alla madre molto avere e di ciò che egli s'accordano. Or ci partiamo di qui, e andremo a un'altra provincia verso Levante. Capitolo 72 Dell'Egrigaia E quando l'uomo si parte d'Erguil e vassi per Levante otto giornate, egli trova una provincia chiamata Egrigaia. E'evi città di Ecastella Assai, e'e di Tengut, la mastra città è chiamata Calatian. La gente adorano idoli e avi tre chiese del cristiani nestorili. E' sono al grande cane. In questa città si fa giambellotti di pelo di camello, li più belli del mondo. E dell'ana bianca fanno giambellotti bianchi molto belli. E fannone in grande quantità, e portansi in molte parti. Ora usciamo di questa provincia. Enteremo in un'altra provincia chiamata Tenduc, e enteremo in le terre del preste Giovanni. Capitolo 73 Della provincia di Tenduc Tenduc è una provincia verso Levante, ova Castella e città di Assai. E' sono al grande cane, e sono discendenti dal preste Giovanni. La mastra cittade è Tenduc, ed è questa provincia, è re uno discendente del legnaggio del preste Giovanni. E' ancora si è preste Gianni, e suo nome si è Giorgio. Egli tiene la terra per lo grande cane, ma non tutta quella che tenea lo preste Gianni, ma alcuna parte di quelle medesime. E sì vi dico che tuttavia lo grande cane ha date di sue figliuole e di sue parenti a quello re discendente del preste Gianni. In questa provincia si trova le pietre onde si fa l'azzurro molto buono, e va a giambellotti di pelo di gamello. Egli vivono di frutti della terra, cui vi si ha mercatantie ed arti. La terra tengono li cristiani, ma è va degli idoli e di quelli che adorano Macometo. Egli sono i più bianchi uomini del paese, e più belli, e più savi, e più uomini mercatanti. E sappiate che questa provincia era la mastra sedia del preste Gianni quando egli signoreggiava li tartari e tutta quella contrada. E ancora vi stai gli suoi discendenti, e il re che la signoreggia è del suo legnaggio. E questo è lo luogo che noi chiamamo Gorgo e Magogo, ma egli lo chiamano Nug e Mungoli. E in Ciascheuna di queste province hai generazione di gente, e in Mugul dimorano li tartari. E quando l'uomo cavalca per questa provincia sette giornate per Levante verso li tartari, l'uomo trova molte città di e castelle, ov'è gente che adorano Macometo, e idoli e cristiani nestorini. Egli vivono d'arti e di mercatantie. Egli sanno fare drappi dorati che si chiama nasicci, e drappi di seta di molte maniere. Egli sono al grande cane. E v'è una città che ha nome Sindatui, ove si fa molte arti, e fa vissi tutti fornimenti da oste. E hae una montagna ov'è una molto buona argentiera. Egli hanno cacciagioni di bestie ed uccelli. Noi ci partiremo di qui, e andremo tre giornate, e troveremo una città che si chiama Chagan Nuor, nella quale hae uno grande palagio che è del grande cane. E sappiate che il grande cane dimora volontieri in questa città e in questo palagio. Perciò che gli va il lago e riviera assai, ove dimora molte grue. E havi uno molto bello piano, ove dimora grue assai, fagiani e pernici, e di molte fatte d'uccelli. E per questo vi prende il grande cane molto solazzo, perché gli fa uccellare a gerfalchi e a falconi, e prendono molti uccelli. E va cinque maniere di grue. L'una sono tutti neri come carboni e sono molto grandi. L'altra sono tutti bianchi, e hanno lalie molto belle, fatte come quelle del paone. Lo capo hanno vermiglio e nero e molto bene fatto. Lo collo nero e bianco, e sono maggiori dell'altra assai. La terza maniera sono fatti come li nostri. La quarta maniera sono piccoli, e hanno agli orecchi penne nere e bianche. La quinta sono tutti grigi, grandissimi, e hanno lo capo bianco e nero. E appresso a questa città ha una valle ove il grande cane ha fatte fare molte casette, ove gli fa fare molte catorse, cioè con tornici. E alla guardia di questi uccelli fa stare più uomini. E avine tanta abbondanza che ciò è meraviglia. E quando lo grande cane viene in quella contrada, ha e di questi uccelli grande abbondanza. Di qui ci partiremo, e andaremo tre giornate tra tramontana e greco. Capitolo 74 della città di Giandù Quando l'uomo è partito di questa cittade e cavalca tre giornate, si si trova una cittade che è chiamata Giandù, la quale fei fare lo grande cane che regna, Koblai cane. E hai fatto fare in questa città uno palagio di marmo ed altre ricche pietre. Le sale e le camere sono tutte dorate, e è molto bellissimo ma rivigliosamente. E attorno a questo palagio è uno muro che è grande quindici miglia, e qui vi ha i fiumi e fontane e prati assai. E qui vi tiene lo grande cane di molte fatte bestie, cioè cerbi, dani e cavriuoli, per dare mangiare a gerfalchi e a falconi che gli tiene in muda. In quello lugo egli va bene duecento gerfalchi. Egli medesimo vuole andare bene una volta ogni settimana a vedere, e più volte quando il grande cane va e per questo prato murato, porta uno leopardo in sulla groppa del cavallo. E quando egli vuole fare pigliare alcuna di queste bestie, lascia andare lo leopardo, e il leopardo la piglia e falla dare agli suoi gerfalchi che gli tiene in muda. E questo fa e per suo diletto. Sappiate che il grande cane hai fatto fare in mezzo di questo prato un opalagio di canne, ma è tutto dentro ignorato e hai lavorato molto sottilemente a bestie e a uccelli ignorati. La copertura è di canne, vernicata e commessa sì bene che acqua non vi puote entrare. Sappiate che quelle canne sono grosse più di tre palmi o quattro e sono lunghe da dieci passi in fino in quindici e tagliansi al nodo e per lungo e sono fatte come tegoli, sicché se può bene coprire la casa. E al fatto fare sì ordinatamente che egli lo fa disfare quando egli vuole e fallo sostenere a più di duecento corte di seta. E sappiate che tre mesi dell'anno vi stai in questo palagio lo grande cane, cioè giugno, luglio, agosto, e questo fai perché v'è caldo. E questi tre mesi questo palagio sta fatto, gli altri mesi dell'anno i sta disfatto e riposo, e può lo fare e disfare a suo volere. E quando egli viene a ventotto die d'agosto, lo grande cane si parte di questo palagio e dirò vi la cagione. Egli è vero che egli ha una generazione di cavagli bianchi e di giumente bianche come neve, senza nieno altro colore, e sono in quantità bene di diecimila giumente, e lo latte di queste giumente bianche non può bere nieno se non di schiatta imperiale. Ben è un'altra generazione di gente, chiamata Oriat, che ne possono bere, che Cinghicane gli diede quella grazia per una battaglia che vinsero con lui già di. E quando queste bestie vanno pascendo, gli è fatto tanto onore che noè sì grande barone che passasse per queste bestie per no scioperalle del pascere. E gli astronomi e gli idoli hanno detto al grande cane che di questo latte si deve versare ogni anno a ventotto die d'agosto per l'aria e per la terra, a ciò che gli spiriti e gli idoli n'abbiano a bere la loro parte, a ciò che egli salvino loro famiglie e uccelli e ogni loro cosa. E quando si parte lo grande cane e va a un altro luogo. E sì, vi dirò una maraviglia che io avea dimenticata che quando il grande cane è in questo palagio e egli viene uno male tempo, egli ha e astronomi e incantatori e fanno che il male tempo non viene in sul suo palagio. E questi savi uomini sono chiamati Tebut e sanno più darti di diavoli che tutta l'altra gente e fanno credere alle genti che questo avviene per santità. E questa gente medesima che io vi ho detto hanno una tale usanza che quando alcuno uomo è morto per la signoria eglino lo fanno cuocere e mangialo, ma non se morisse di sua morte. E sono sì grandi incantatori che quando il grande cane mangia in sulla maestra sana e gli coppi pieni di vino o di latte o d'altre loro bevande che sono dall'altro capo della sala si gli fanno venire senza c'altri gli tocchi e vengono dinanzi al grande cane. E questo vede bene diecimila persone e questo è vero senza menzogna e questo ben si può tefare per micromanzia. E quando viene di una festa di di uno idolo egli vanno al grande cane e fanno sidare cotanti montoni e legno aloe e altre cose per fare onore a quello idolo perciò che si salvi lo suo corpo e le sue cose. E quando questi incantatori hanno fatto questo fanno grande affumata dinanzi agli idoli di buone spezie con grandi canti. Poscia hanno questa carne cotta di questi montoni e pongolla dinanzi all'idolo e versano lo brodo qua e lae e dicono che gli idoli ne piglino quello che egli vogliono. E in cotale maniera fanno onore agli idoli lo dì della loro festa che ciascuno idolo ha propria festa come hanno gli nostri santi. Egli hanno badie e monasteri e sì vi dico che va a una piccola città cae uno monastero che va entro più di duemila monaci e vestonsi più onestamente che tutta l'altra gente. Egli fanno le maggiori feste agli loro idoli del mondo con i maggiori canti e con gli maggiori luminari. Ancora va e un'altra maniera di rilegiosi che fanno così aspra vita com'io vi conterò. Egli mai no mangiano altro che crusca di grano e fannola e stare in molle nell'acqua calda uno poco e posciala menano e mangiala. Quasi tutto l'anno digiunano e molti idoli hanno e molto stanno in orazione e tale volta adorano lo fuoco. E quelle altre regole dicono di costoro che digiunano che sono paterini. Altra maniera va di monaci che pigliano moglie e hanno figliuoli assai e questi vestono di altre vestimenta dagli altri sicché vi dico insomma grande differenza ha da l'una all'altra e in vita e in vestiri. E di questi va e che tutti i loro idoli hanno nome di femmine. Or ci partiremo di qui e conteròvi del grandissimo Signore di tutti gli tartari cioè lo nobile grande cane che Koblain è chiamato.